Al civico 43 di via Referdinando II di Borbone, strada meglio conosciuta come la parallela alla Litorania a Torre del Greco, il marciapiede è diventato da mesi una discarica abusiva a cielo aperto. Dopo la segnalazione di alcuni residenti, questa mattina siamo stati in zona per documentare con le nostre telecamere la situazione. La situazione qui è abbastanza critica, nel senso che la spazzatura giace da mesi perché in questo momento il marciapiede è stato più o meno pulito da questi ingombranti, da risulte edilizie, anche qualche lastra di Eternit che c'era, lastre di asfalto tolte che sono stati qui per tre o quattro mesi. Dopo denunce e lamentele, ieri sera l'area è stata in parte ripulita, ma i cittadini chiedono maggiore attenzione da parte dell'amministrazione comunale. La ditta nei vari proclami di denuncia ai carabinieri, all'assessore, ai carabinieri, alla polizia ci dicevano che questo è materiale speciale, non può essere raccolto dalla ditta e quindi di conseguenza l'incevile di turno vedeva questa spazzatura, questi ingombranti ammassati e tutti i giorni qui abbiamo, oltre agli incivili della zona e a qualche incivile che viene fuori dalla zona di Santa Maria la Bruna, ci sono anche degli svuotacantine abusivi, delle persone che svuotano le loro cantine abusivamente in barba a tutte le norme della raccolta differenziata, della chiamata agli ingombranti e vengono a rendere le nostre strade delle discariche. Qui ci sono persone disabili, siamo in una zona periferica, quindi anche se vogliamo semplicemente andare in chiesa e vogliamo farlo a piedi non lo possiamo fare più. Secondo me la colpa è a 50 e al 50, i cittadini sono incivili e invece di denunciare giacciono in questa situazione di abbandono. L'amministrazione purtroppo non amministra la città. Dopo quante segnalazioni sono venuti finalmente a pulire? Guarda, io ti dico che la situazione qua è critica da circa tre mesi, quindi con il caldo estivo ti lascio immaginare quello che c'è stato, la puzza che ancora si sente e dopo tantissime segnalazioni, dopo tantissimi litigi e con i vigili, perché magari si scocciano perché li chiamiamo continuamente, e con le persone perché noi siamo scesi, questi pochi rappresentanti che ci sono in strada proprio contro gli incivili, perché i vigili ci hanno chiesto di fare i video, di ammonire anche queste persone, però lo vogliamo anche fare, ma chi ci governa ci deve tutelare. Chiedo semplicemente di amministrarci, perché oggi loro hanno tolto questi cumuli di spazzatura, stasera e domani saremmo punte da capo. Quindi questo marciapiede alle nostre spalle diventa puntualmente una discarica a cielo aperto? Questo marciapiede diventa una discarica e la disperazione di qualche cittadino ha portato anche a scrivere delle scritture con lo spray. Abbiamo capito che la politica morbida non va bene, allora se quella morbida non è andata bene ci vuole una politica un po' più di repressione. Ci vuole la repressione e ci vogliono i controlli? Ci vogliono i controlli perché penso che come possiamo vedere tutti, più o meno dalla metà di agosto, Torre del Greco è terra di nessuno, non c'è un vigile per strada, non c'è un controllo per la spazzatura nonostante viviamo un'emergenza sulla spazzatura che ci ha portato alla ribalta diciamo nazionale. E in un momento anche di campagna elettorale chiediamo questo, basta sproloqui, basta spot inutili. Chi sta al governo, in questo momento cittadino, deve governarci, noi chiediamo di essere governati, ma se l'amministrazione, i politici e chi ci governa ci abbandona, i cittadini virtuosi non possono fare niente. Siamo costretti a subire queste violenze, noi, la nostra salute e la nostra terra. Il cattivo odore ci sveglia la notte e con il caldo la situazione peggiura. Dicono, non si può andare avanti così. Non solo cumuli di rifiuti non raccolti, residenti lamentano la presenza di ingombranti, copertoni, lastre di ethernet, scarti edili e chiedono l'installazione di telecamere, di videosorveglianza e maggiori controlli per stanare gli incivili. Questa mattina qui hanno ripulito, ma si sente ancora forte un cattivo odore. Sì, sì, il cattivo odore si sveglia la mattina. Ci tengo a parlare invece più che altro dell'amianto che sta qua dietro, è stato segnalato molte volte. Noi, Pesce Fortuna, molti cittadini nei dentoni, abbiamo nelle nostre case malati oncologici ancora in cura e penso che l'amianto è una cosa... Se poi il sindaco è stato segnalato e nemmeno ha provveduto, se non ha tempo, lo prendo io, prendo le mie misure, lo prendo e lo porto sotto al palazzo, quando ha tempo il sindaco lo smaltisce lui. Rifiuti non raccolti da tempo con un proliferare di cattivi odori e di insetti. Quando la spazzatura non viene raccotta e lasciata per 3-4 giorni, io ho una puzza in casa, io sono asmatica, io e i miei figli siamo asmatici. Non si può respirare, in casa fa caldo, moriamo piena di blatte sul balcone. Non si può continuare ad andare avanti così. Una sera passano due o tre motorini con le mani pieni di buste da spazzatura, la lanciano dai motorini dove arrivava a terra in mezzo alla strada, dappertutto arrivava quella... che la mattina mio marito quando è uscito per andare al lavoro ha dovuto fermare il motorino, raccogliere tutte queste buste sparse per strada e le ha messe in un posto lì. Certamente non me le potevo portare in casa mia. Signora, che cosa chiedete al sindaco? Io chiedo al sindaco di pulire le strade. Io sono asmatica, non riesco a respirare né la notte che fa caldo, né il giorno con la spazzatura. Devono provvedere a fare qualcosa per non far uscire più queste blatte. Sono di terrorizzare, alzare un po' sul balcone un attimino la puzza, le blatte, le ho trovate sotto al letto. Chiedo assolutamente al sindaco e chiedi competenze di queste cose perché non studio politica, non lo so, che vengono messe delle telecamere e questi pesticidi devono essere messi puntualmente in tutti i tombini perché non ce la facciamo più con queste blatte e topi, non ce la facciamo più. Grazie a tutti.